Siamo in comune, è appena finita la relazione della garante comunale, siamo qui con la dottoressa Buccoliero, direttrice del calcere Lorusso Cotugno di Torino. Direttrice, un lento miglioramento c'è, quali sono le cose su cui è più importante incidere affinché il Lorusso non rimanga il calcere più critico d'Italia? Sicuramente bisogna incidere sul sopraffollamento, cioè è necessario trovare delle strategie per fare in modo che le persone, come diceva la garante proprio nella relazione, le persone che hanno una pena inferiore a tre anni o comunque che abbiano un desiduo pena veramente molto minimo, di poter uscire, di poter riprendere in mano la propria vita, di poter fare in modo di avviare dei percorsi di opportunità lavorative e formative. Grazie dottoressa. Grazie a lei.